La protezione civile passa praticamente da un'emergenza all'altra. Come vi state ristrutturando per affrontare questa nuova normalità? Ma intanto stiamo cercando di potenziare anche la risposta operativa, il fatto di avere costanti, continui collegamenti, connessioni, programmazioni con i soggetti che istituzionalmente operano nell'emergenza, ma soprattutto bisogna spingere sulla fase di prevenzione. Questa è la vera sfida, cioè lavorare con la comunità scientifica in particolare per poter comprendere meglio questi fenomeni e quindi proporre delle politiche di mitigazione dei rischi. Secondo lei il clima uccide o c'è una nostra complicità in un uso non appropriato del territorio? Guardi, è come il terremoto uccide, uccidono le case costruite male in territori che sono ad alta pericolosità e che quindi creano rischio. Noi affrontiamo ogni volta il rischio del giorno e il nostro paese ha molti rischi, le alluvioni, la siccità, il sismico, i vulcani. Come si fa a gestire una macchina così complessa e così delicata? Beh sì, in effetti noi abbiamo la tendenza a seguire l'emergenza del giorno, il rischio del giorno perché siamo naturalmente predisposti anche ad essere sottoposti alla comunicazione che viene fatta quotidianamente. Secondo lei la comunità oggi quanto è consapevole del rischio e della prevenzione? Ma su questo dobbiamo lavorare ancora molto. Credo che stia nascendo una certa consapevolezza, soprattutto quando purtroppo ci sono gli eventi estremi che creano attenzione, questa consapevolezza c'è. Dopodiché abbiamo la memoria corta anche come cittadini, veniamo presi dagli affari correnti quotidiani e si perde un po'. Dobbiamo creare una consapevolezza più strutturata che parte dalle scuole, parte dalla formazione di quando siamo dai nostri bambini, i nostri ragazzi, nelle pratiche operative di come comportarsi in determinate situazioni, quindi su questo certamente c'è ancora molto da lavorare.